Mi rivolgo a tutti quanti che sognano di cacciare la Grecia dall'Europa. Beh, non sarà così, perché l'Europa, dal punto di vista marcovologico, concettuale e sostanziale, è una creazione della Grecia e noi l'Europa non ve la regaleremo, non ve la regaliamo l'Europa. C'è una divergenza di opinioni, ma non si può risolvere a caldo. Deve passare un minimo di tempo per poter ragionare a freddo e trovare una soluzione. Noi chiediamo un margine di tempo in cui non riceveremo prestiti e non pagheremo rate poi altro discorso sono gli aiuti di Juncker e spero che effettivamente arrivino questi aiuti. Però noi chiediamo semplicemente di trovare una soluzione equa, una soluzione giusta, perché è per ciò che è giusto, è per il diritto che noi ci battiamo. Applausi Grazie.